L.A. Regina Elisabetta II è nota per la sua dedizione alle quattro nazioni del Regno Unito e una volta ha visitato il reggimento Royal West il giorno di San David per fare loro un regalo tradizionale. Ma qual è il significato dietro la distribuzione di un porro? In onore del giorno di San David, il principe William e Kate, duchessa di Cambridge, hanno visitato Pant Farm vicino ad Abergavenny in Galles. L'allevamento di capre ha fornito latte ai produttori di formaggio locali negli ultimi venti anni. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno appreso dell'importanza dell'industria agricola per le popolazioni rurali e di come le organizzazioni comunitarie stanno fornendo sostegno ai giovani, la coppia ha bei ricordi del Galles mentre trascorrevano i primi anni del loro matrimonio sull'isola di Anglesi. Prima di trasferirsi a Kensington Palace, William ha detto. Questa isola è stata la nostra prima casa insieme e sarà sempre un posto immensamente speciale per entrambi. Kate ha mostrato il suo sostegno per la festa di San David indossando una bellissima spilla d'Affodil. Il Narciso è stato introdotto come sostituto dall'odor più gradevole del simbolo originale del Galles, i porri verdi. Secondo la leggenda, San David, il santo patrono del Galles, consigliò ai soldati gallesi di identificarsi indossando i porri in una battaglia combattuta contro i. sassoni in un campo di porri. E così oggi, ogni anno nel giorno di San David, il porro viene indossato nei distintivi dei berretti di ogni soldato in ogni reggimento gallese. La verdura è citata anche nell'opera teatrale di Shakespeare Enrico V, scritta nel XVI secolo durante il regno della regina Elisabetta I. Si dice che il re Enrico VIII abbia regalato a sua figlia un porro nella giornata nazionale del Galles. Questa tradizione reale sembra essere arrivata alla monarchia di oggi. Nel 2017, la regina Elisabetta II ha presentato i porri al reggimento del Royal Wesh per celebrare il giorno di San David. Cadetti, truppe e veterani hanno ricevuto il tradizionale simbolo gallese, che era stato avvolto in un filo rosso e immerso nell'oro.